Allora, rieccoci per parlare della prossima proiezione, che è un cortometraggio che abbiamo il regista Alessio Vino e il produttore Francesco Inglese, a cui farei un bel applauso. Lei c'è il microfono, ragazzi. Allora, la vostra opera è un cortometraggio, un concorso, la durata è di 15 minuti. Allora, andiamo direttamente ai protagonisti. Parlateci di loro, chi sono Seidu e Festus? Ora sì, eccoli. Allora, Festus e... Va bene, così, metto in posa. Allora, Festus e Seidu sono due ragazzi africani. Seidu proviene dalla costa d'Avorio e Festus dalla Nigeria. E sono due ragazzi che sono giunti in Italia, perché sono scappati dal loro paese, e sono giunti in Italia per realizzare i propri sogni. Sono due ragazzi che hanno dei sogni, appunto. E Seidu sogna di proporre le proprie ricette in un ristorante, quindi trasmettere quella che è la sua cultura attraverso il cibo, attraverso le sue ricette. E invece Festus sogna di portare in Italia il figlio. In realtà abbiamo romanzato questa cosa. Lui ha due figli in Nigeria, poi per motivi narrativi ne abbiamo raccontato solamente uno. Ha due figli in Nigeria che lui vuole portare in Italia. E li abbiamo incontrati nel loro percorso. Ne li abbiamo incontrati in un momento. Abbiamo raccontato quello che loro attualmente stanno facendo per poter realizzare, appunto, i loro sogni. Quindi sì, stiamo parlando... Avevo spento il microfono, ho pensato un po'. Stiamo parlando quindi di persone che esistono davvero nella realtà, quindi è una storia vera. Quindi appunto sì, parlateci di come, perché avete deciso di raccontare la storia di queste due persone. Sì, loro sono due ragazzi reali, appunto. Gli attori che vedrete sono appunto i veri Festus S2 che abbiamo scelto di far recitare loro perché non c'era nessun altro... Ci è parso ovvio. E tra l'altro fanno un ottimo lavoro, se posso permettermi. Veramente, se uno non lo sapesse, veramente sì, esatto, sarebbe stato comunque il... No, loro, devo dire la verità, noi abbiamo scritto insieme questo corto e quando li abbiamo conosciuti ci siamo interrogati sul se scegliere gli interpreti o far recitare a loro la parte, appunto. Ma ci siamo resi conto che loro erano il tramite ideale, il tramite naturale di quello che appunto è la vicenda. E quindi ci è sembrato inevitabile. E per quanto riguarda la realizzazione del corto, forse è meglio che parla Francesco, che è stato il produttore, quindi... Allora, diciamo che Alessio è venuto da noi a proporre questa scintilla, questa idea iniziale e abbiamo lavorato dal punto di vista creativo sulla storia, cercando di rispettare quanto più possibile quella che era la realtà dei fatti. Quindi portando sullo schermo quelle che erano le vere storie di questi due protagonisti. E grazie, diciamo, anche al contributo della UILA, quindi diciamo il sindacato che si occupa di tutelare questi ragazzi quando arrivano in Italia e quindi inserirli in un percorso lavorativo e formativo a livello, appunto, agricolo. Grazie al comune di Pignatano Maggiore, quindi un comune dell'Interland Casertano abbastanza complesso e all'aiuto anche della Fin Commission abbiamo realizzato quest'opera. E' stato un progetto, diciamo, che abbiamo maturato per circa tre mesi di gestazione dal punto di vista creativo e poi è stato realizzato in circa una settimana a livello produttivo. E non è stato facile pure far recitare persone che erano completamente lontane, quindi ecco, entrare in empatia con queste personalità, con questi ragazzi che hanno una storia incredibile. E' una storia che parte da un cammino a piedi in un deserto e quindi arrivati qui e tutto quello che vedono sono grati per qualsiasi cosa e cose che noi soprattutto diamo spesso per scontate. Nella citazione, nella descrizione del film c'era una citazione di Saeedu che a me mi ha colpito molto, che era, che diciamo proprio lui ha detto che vi ha chiesto, la prima volta che l'avete incontrato, di far vedere alla gente che siamo umani. Speriamo, insomma, voi avete detto che sperate di esserci riusciti. Secondo me è stato un lavoro veramente eccezionale quello che avete fatto, perché appunto non solo a livello attoriale delle due persone, ma le storie si intrecciano molto bene, non voglio raccontare il film, ma si intrecciano molto bene e vi piacerà molto. L'ultima domanda, quella di prima, quella che mi piace fare, è l'Iskia Film Festival, Festival delle Location. Che ruolo gioca la location in quest'opera? Sì, a parte che ti ringrazio per aver citato questa frase di Saeedu perché era proprio il nostro intento. Di solito quando la dico io piango, quindi grazie a quello che hai detto tu. Ma tu hai fatto che ti pianti prima e adesso sto merito. No, quando ce l'ha detto noi non volevamo più fare il corto, quindi siamo riusciti a farlo cercando di capire appunto lui cosa, quale potesse essere la funzione del nostro corto. Sì, perché ovviamente non eravamo nelle condizioni di raccontare quel viaggio, quella storia e quindi abbiamo cercato di avvicinarci a quell'esperienza umana. Certo, perché ti senti anche inadatto sotto certi aspetti. Scusa, mi stiamo prolungando. No, no, scusami se ti interrompo. Scusate voi, stiamo chiacchierando amorevolmente. No, la domanda era il territorio, giusto? Sì, esatto, la location e il territorio. Allora, io prima di venire qui, tra l'altro ragionavo, noi siamo nella sezione scenari campani e questa cosa mi piace molto, infatti sono felice di essere in questa sezione perché il nostro corto, diciamo che ha uno scenario particolare. Come diceva Francesco, abbiamo girato a Pignataro, abbiamo girato le parti dell'azienda agricola a Giuliano e poi abbiamo girato per la maggior parte gli esterni a Pignataro Maggiore, che è un territorio conosciuto soprattutto per la Camorra, quindi nel senso, non so, io non lo conoscevo per altro, insomma. E poi abbiamo girato alcuni interni e anche la scena finale a Villa Imposimato, che è un bene confiscato alla Camorra, che si trova appunto a Pignataro Maggiore e quindi quando pensavo al territorio nel quale abbiamo girato mi veniva da sorridere, cioè sorrido però dovrei piangere appunto come la frase di prima. Un bel riscatto voglio dire. Sì, io pensavo agli scenari, nel senso, quando parliamo di Camorra, la Camorra comunque parla del territorio, la Camorra intende il territorio come qualcosa di proprio. Da possedere, da sfruttare. È un qualcosa di limitato, è un qualcosa che gli è dovuto, è qualcosa che appunto non ha prospettive. Invece attraverso questo progetto che appunto porta avanti la Willa, la Peron, che è la cooperativa che ci ha seguito, e il progetto che segue questi ragazzi, abbiamo notato appunto che il territorio potesse cambiare, potesse essere un luogo di opportunità. E penso che un territorio appunto sia... Avete piantato un seme in questo terreno. Certo, non noi. Noi abbiamo raccontato il seme che gli altri hanno piantato ovviamente. Quindi noi siamo qui solo a rinnovare questo discorso ovviamente che ne abbiamo raccontato un momento di quel processo che è lunghissimo. E quindi siamo felici che il nostro corto possa compiere questo attraversamento da terra di morte, per usare un termine forte, nel senso che riguardo la Camorra, una terra di opportunità, di vita, che appunto offre delle prospettive a questi ragazzi che vengono da lontano. Io ringrazio tantissimo Alessio Avino e Francesco Inglese e vi lascio alla proiezione di Un Passo alla Volta. Buona visione. Grazie. Grazie.